Gran Sassopoli, errori, crisi e rilancio. Il Gran Sasso al centro di un dibattito organizzato dall'associazione Gran Sasso Anno Zero per parlare di futuro anche attraverso il ruolo del distretto del Gran Sasso che ha incontrato così associazioni e politica. Deficit di management, assenza di una visione strategica, frasi che purtroppo ricorrono quando si parla della montagna aquilana. Il sito che ci porterà a metterci in evidenza si chiama Gran Sasso Experience. Il piano di marketing che andremo a gestire avrà una parte molto innovativa che è quella di un progetto sul territorio di ascolto e quindi andremo a sentire i cittadini, le persone che abitano e soprattutto i giovani. Noi oggi siamo terrorizzati, la prima emergenza che il distretto ha oltre quella di una diffusione turistica è quella di far sì che non ci sia lo spopolamento e l'abbandono da parte dei giovani soprattutto di questi territori, altrimenti creeremo tanti posti fantasma. Quindi dobbiamo dire che la montagna è un affare, la montagna è importante, la montagna ha due stagionalità, quindi partiamo dall'idea che comunque in montagna si può lavorare veramente tutto l'anno. La politica apre intanto al convolgimento del parco e riconosce gli errori del passato mentre il sindaco Cialente ricorda i 7 milioni di euro del Cipe per il Gran Sasso che verranno usati in prima battuta per riqualificare l'albergo e per altri progetti. Su tutti è stato illustrato anche quello per realizzare uno snow park sul monte Scindarella. La montagna è Gran Sasso, è una grande risorsa turistica, ci sono dati molto interessanti all'andamento del turismo sulla rilevanza, la crescita degli sport invernali, sport di montagna e anche estivi, però intanto è vero che abbiamo creato questo primo distretto turistico della montagna che è il più grande d'Italia perché ha 60 comuni. Adesso c'è la campagna di marketing per 300 mila euro che è stata regolarmente messa a gara, i sentieri sono stati già tutti quanti messi a gara. Adesso inseriremo con la ridimodulazione dei soldi al terremoto, inseriremo il finanziamento delle attività per quanto riguarda i rifugi per fare proprio un percorso, un cammino lungo il Gran Sasso e in modo che poi le giovani possano dare vita anche a attività turistiche lungo questo cammino.